Allora, con la donna è meglio fare la cosiddetta attrazione irresistibile Che lei viene tirata e se doveste fare una dimostrazione con la donna più elegante Ma dal vero teatrale? No, no, lei è tirata Alla teatrale? No, lei rimane bloccata. Cosa succede? Come sentivi le mani? Due, non si erano attaccate, non riuscite a togliere, anche lei è la stessa cosa Poi dopo lei entra in uno stato di... non capisco anche lei Solo che non sta bene mettere la terra, non puoi arzarti e cose del genere E quindi, sì, avessi un donnone grosso, magari, però... Ma perché si chiama fase morale? Cos'è?